Buongiorno a tutti e ben ritrovati Ottoliner. Oggi abbiamo con noi un Ottoliner di quelli proprio che insomma uno degli amici degli Ottoliner con cui condividiamo più piacevolmente le nostre giornate e i nostri argomenti. C'è con noi Stefano Orsi che conoscete tutti. Ciao a tutti. Il suo canale insomma seguitissimo, apprezzatissimo, sia perché il nostro ospite è gradito e ricorrente e poi insomma collabora con Clara, insomma è uno della nostra cerchia. Quindi ci fa piacere averlo qui. Anche nelle manifestazioni pubbliche? Anche tra l'altro, tra l'altro, soprattutto. A Empoli l'altro giorno. Certo, certo, certo. Quindi con lui andiamo a parlare insomma oggi di Ucraina. Gli stavo dicendo prima di iniziare che il Simplicious The Think di ieri ha pubblicato un lungo articolo in cui parlava delle recenti dichiarazioni di Lutvac in cui si ribadiva la necessità di inviare soldati Nato, soldati europei. Lui dice apertamente gli inglesi, i francesi e gli scandinavi già ci lavorano da mesi, dice in questa prospettiva c'è stato l'allargamento della Nato, bla bla bla, perché l'idea è di mandare dei gruppi di elite per operazioni mirate e poi anche chissà qualcosa di più, per qualcosa di più grande, perché altrimenti in Ucraina, cito testualmente, la Nato si deve preparare ad una rovinosa sconfitta. Stefano, che ne pensi? Lutvac è una delle menti, vabbè, sarà anche, scusatemi il termine, magari un po' stronzo per alcuni, però è una delle menti pensanti, più lucide che ci sono in Occidente. Io molte volte non è che sia d'accordo con quanto afferma, però devo dire che in genere, anche se non mi piace quello che dice, lo fa tenendo le parti in maniera lucida di chi difende lui, ecco. Nel senso che non sbaglia quando ha detto mesi fa, mesi fa, che oltre a dare le armi, dobbiamo iniziare a pensare a mandare gli uomini. Lui ne parlava in termini di Occidente, chiaramente in termini di Nato, di Stati Uniti e paesi Nato, ma aveva visto la tendenza ucraina a perdere molti più uomini di quelli dichiarati, molto più dei russi, oltretutto, e lui ha fatto due più due e ha detto, noi stiamo perdendo, noi perché lui tiene chiaramente le parti dello strumento Nato che è l'Ucraina, stiamo perdendo quello che è il personale addestrato. Non è un problema di uomini in senso generale, ne hanno da cui pescare, possono arruolarne anche due, tre, quattro milioni, il problema è chi arruolano? Arruolano persone che non vogliono andare a combattere, persone che hanno avuto due anni per arruolarsi, persone che non ne hanno la minima intenzione. E non è che anche se gli dai un addestramento questi diventino dei Rambo, sono persone che non hanno nella loro indole di andare a farsi ammazzare per gli interessi di Lutwak, per capirci. E quindi lui dice, dobbiamo sostituirli con degli altri imbecilli che vadano al posto loro a farsi ammazzare. E quindi dice ai servi utili, mandate degli uomini, altrimenti perdiamo la guerra. E grazie, e chi ci ha mandato nella guerra? Ci siamo finiti da soli? No! La guerra è stata costruita, passo dopo passo, elemento dopo elemento, mattoncino l'ego dopo mattoncino l'ego. Si è costruito questo conflitto. È un processo che parte da lontano e che nel 2020 abbiamo iniziato a denunciare. Attraverso i canali, il mio, quello di Geopolitical Center, annunciavamo a chiare lettere che, data gli elementi che si evidenziavano nelle preoccupazioni russe da un lato e nei movimenti delle forze ucraine da gennaio 2021 in avanti, che si sarebbe arrivati a un conflitto diretto. Questo per volontà esplicita dei paesi della Nato che hanno fatto tutti i passi necessari affinché la diplomazia fallisse negli 8 anni precedenti e si arrivasse a un confronto diretto. Lutvak oggi fotografa una realtà. Io la esplico dando un 50% di probabilità sull'esito finale del conflitto. Non è propriamente come tirare una moneta da un euro testo croce, ma le poluzioni sono due a questo punto. Non ci sarà una diplomazia a subentrare, ma questa guerra finirà solo in due modi. O con la sconfitta ucraina o con la vittoria russa. Le alternative non sono che queste. Quindi secondo te le ipotesi che si erano ventilate anche nelle settimane passate di una Turchia che si ripaventa come mediatore o di un'Ucraina che si ritira rinunciando al Donbass chiedendo in cambio, tutto questo è ormai fuori discussione, mi sembra di capire. La Russia ha perso troppo ormai per mettersi queste soluzioni. Questa soluzione è fuori discussione a partire dal maggio del 2022, quando l'Ucraina, seguendo le indicazioni e gli ordini della Nato, quindi degli anglo-americani, che per bocca di Boris Johnson, imposero il rifiuto di firma a un accordo di pace molto vantaggioso per l'Ucraina, con la volontà ferrea da parte dell'Occidente di andare a sconfiggere militarmente la Russia sulla valutazione di quali forze dovesse avere in campo la Russia, secondo le stime della Nato non lo so, perché se hanno fatto quelle valutazioni sulla base di stime corrette, allora sono dei folli o perseguono l'autodistruzione. Se l'hanno fatto sulla base di stime errate, come ho sempre supposto, allora dovrebbero semplicemente fare ammenda degli sbagli commessi e tirarsi indietro con un grande atto di umiltà, ma un bagno di realtà. Ecco, vedi, le ipotesi che noi sentiamo ventilare in questo momento, comprese quelle trapelate da Trump, e cioè che sono ventilate attraverso una conversazione privata, ne parla oggi il Washington Post, tra l'altro ho visto, in cui di fatto loro dicono costringiamo l'Ucraina, o meglio Trump direbbe costringiamo l'Ucraina a accettare l'accessione di territorio, e cioè riconoscere quei territori sono interamente russi, punto. E la cosa finisce lì. No, non finisce qua. Perché finirebbe qui se la Russia stesse cercando territori di espansione. Non è così. Non è mai stato così neanche dal primo giorno del conflitto. Quando sì, la Russia in parte lo giustificava dicendo dobbiamo invitare le popolazioni del Donbass e via dicendo. Ok, per i romantici è un'operazione cavalleresca. Il problema è che in realtà gli interessi reali della Russia per iniziare il conflitto vanno ben oltre questo fattore, e cioè riguardano la sicurezza intrinseca del paese. E sono argomenti estremamente importanti e non sottovalutabili né sormontabili. La Russia è stata messa da questo punto di vista con le spalle al muro, dall'espansione della Nato, dal posizionamento a est di sistemi offensivi di difesa antimissile. Perché attenzione, un sistema antimissile non è un'arma difensiva, è un sistema offensivo. Perché serve a una sola cosa, bloccare la risposta del nemico al tuo primo attacco, in modo da avere un vantaggio strategico su di esso. L'hanno già fatto in Romania con Legis Ashor e con quello in Polonia, oltretutto, che è stato attivato poi di recente, e che quindi si sarebbero addirittura potuti spostare questi sistemi oltre, oltre, ancora. La Russia non può far finta di niente, non può far finta di vedere avanzare le armate del nemico e permettere che questo accada. Non lo può fare perché in mezzo tra il fare e il permettere loro di farlo, ci sono di mezzo 27 milioni di morti, che sono quelli che sono costati alla Russia per aver permesso a un nemico, 80 anni fa, di accumulare armate ai suoi confini e di invaderla. Per questo, a dicembre del 2021, la Russia consegnò nelle mani di Wendy Sherman, nell'edificio del Ministero degli Esteri russo, una offerta di pace duratura, una pace stabile in Europa, che prevedesse l'allontanamento degli eserciti stranieri presenti sul territorio dell'est-Ucraina fino ai confini del 91. E cioè, ritornate dove eravate nel 91 e non, anche se avete dei paesi nell'alleanza a est, va bene, basta che non ci siano eserciti di altri paesi su quel territorio. Niente armi, niente missili, niente bombe atomiche, niente di niente. Via tutti gli impianti e le basi che avete fatto con eserciti stranieri e si ritorni in modo, con una certa distanza, che eviti ogni tipo di attrito. Questo chiaramente non viene soddisfatto da nessuna delle opzioni che sentiamo. Si vuole cedere alla Russia quello che lei ha già. Perché quei territori di cui si parla sono territori che la Russia si è presa e che l'Occidente ha cercato di strapparle con l'offensiva dell'anno scorso ed è fallita miseramente. Quindi dicono, per arrivare a una trattativa voi dovete offrire qualcosa e non potete offrirmi quello che io già ho. Dovete offrire altro. La Nato non mette più piede in Ucraina. L'esercito ucraino non deve più esistere. Però questo non sembrano intenzionati affatto a questo. Certo che non sono intenzionati. Ma non è solo che non sono intenzionati, è che non sembrano neanche capire quelli che siano i termini del conflitto. Perché se tu offri a qualcuno o dici di voler offrire qualcosa a qualcuno che non gli serve, non gli stai offrendo nulla. Non c'è un'offerta nel dire ti tieni i territori e riconosco che sono tuoi. E allora? Anzi qui si apre un'ulteriore possibilità e cioè il fatto di riconoscere unilateralmente nuovi confini dell'Ucraina senza quei territori ma nel mentre il conflitto continua. Perché quest'atto si profila come unilaterale se non è frutto di un accordo di pace o di cessate il fuoco. Toltenberg, leggevo poco fa, dice tra le altre cose riesce a mettere insieme sia la proposta di dialogo che la ragione per cui fallirà. Perché dice alla fine dei conti deve essere l'Ucraina a decidere che tipo di compromessi è disposta a fare. Ma dobbiamo consentire loro di essere in una posizione in cui raggiungano effettivamente un risultato accettabile attorno al tavolo dei negoziati. E quindi parla lui di cedere questi territori. Stoltenberg poi chiarisce, e qui cade in contraddizione, che non chiederà all'Ucraina di fare concessioni adesso aggiungendo che la pace vera potrà essere raggiunta quando l'Ucraina prevarrà. Quindi che cosa dice? Ci prendiamo una pausa, si riarma e poi riattacca nuovamente e prevarrà nel conflitto. Stoltenberg, nomen omen, cosa sta dicendo ai russi? Vi stiamo prendendo per il naso, no? Per non dire altro. Che poi era quello che avevano detto poi se non sbaglio anche con gli accordi di Minsk, no? Cioè poi a un certo punto era emerso che era stata tutta quanta una storia per prendere tempo, per riarmare l'Ucraina. Cioè a questo punto dubito che... A un certo punto, quando inizia il conflitto e pensavano di vincerlo, no? Hanno detto, erano i mesi di marzo 2022, marzo-aprile, ma no, ma noi Minsk l'abbiamo firmato esclusivamente per prendere il tempo necessario a riarmare l'Ucraina e fare in modo che vincesse il confronto con la Russia. Questo l'ha detto Merkel. L'ha ribadito Hollande. L'ha ammesso pure Poroshenko che mise la firma su quell'accordo di, tra virgolette, di pace che nessuno, a parte la Russia, evidentemente aveva intenzione di... aveva preso sul serio. Nessuno. Gli ucraini non l'avevano fatto. La Germania e la Francia, che erano i paesi garanti nel formato Normandia, non ci pensavano minimamente a prendere quel patto come essere un accordo da porre in essere, da concretizzare nei fatti. Infatti rimase lettera morta. Allontanate solamente le armate con delle fasce di tutela lungo la linea di contatto da cui erano stati tolti i carri armati, i cannoni, le grandi unità di fanteria meccanizzata. Il resto era rimasto uguale, con i mortai che sparavano sulla gente nelle città e via dicendo. Si erano andati rallentando gli scontri armati, una fase silente, si dice. Però qualcuno ogni tanto ci lasciava le piume. Ecco, non è che fosse molto contento di fare statistiche, immagino. Però il tutto ammesso candidamente con una firma su un foglio di carta che non valeva assolutamente nulla pone una pietra tombale sulla possibilità di arrivare a un dialogo, un accordo diplomatico con il contendente che hai di fronte, cioè la Russia. Perché la Russia di fatto, di fronte a queste ammissioni, non ha che una sola scelta, arrivare fino in fondo. Non può fare altro. Non ha una via d'uscita. Perché qualunque accordo sottoscriva con l'Occidente per fermare i combattimenti servirebbe esclusivamente, come servì prima, a permettere di riarmare e riorganizzare l'Ucraina. E basta. Devono necessariamente andare fino in fondo. E Lutvac, torniamo su di lui, questo l'ha capito e infatti dice se non entrano gli eserciti europei a dare chissà quale speranza, perché vi ricordo solo un fattore. L'esercito ucraino è in campo da due anni e più ormai e assorbe tali e tante risorse che l'Occidente collettivo, nato più altri paesi, Australia, Nuala Zelanda, eccetera, non riescono a far fronte al fabbisogno di munizionamento e di sistemi d'arma che l'esercito ucraino assorbe e usa e consuma. Non riescono. Produzione di mezzi, fornitura di mezzi, manutenzione, aerei, sistemi di difesa aerea, proiettili d'artiglieria, cannoni semoventi, cannoni campali, tutto quello che serve per un conflitto. Voi vi immaginate se entrassero in conflitto anche eserciti della Nato e si estendesse questo conflitto, quante risorse in più servirebbero e in quanto tempo finirebbero le poche che hanno a disposizione al momento gli eserciti avendo già mandato le scorte di emergenza all'Ucraina in questi due anni? Punto di domanda. Non è una bella prospettiva. Cosa ne pensi? No, io più che altro la domanda che ti aprirei a questo punto la allargo perché in realtà poi in questo fine settimana abbiamo visto anche la questione per quanto riguarda la transnistria, cioè abbiamo visto anche lì che c'è stato un incidente con un drone, ora la domanda che ti faccio anche alla luce del discorso. Non è un incidente. Esatto, cioè anche alla luce della domanda, anche alla luce del discorso che hai appena finito di sviluppare che è molto chiaro poi nella sua, diciamo nelle conclusioni, ma io e gli altri osservatori iniziano tutti ad avere l'impressione che l'Occidente stia quasi spingendo ad aprire anche altri fuochi, cioè una volta all'Armenia, una volta alla Georgia, una volta alla Moldavia, sembra veramente che ovunque cerchino di stimolare un conflitto. Ora da un lato c'è la famosa idea del secondo fronte e quindi spingiamo i russi ad aprire un secondo fronte così disperdono le forze sul campo e va bene, questa è una strategia che possono legittimamente tentare. Dall'altro sembra più che altro invece che vogliano seminare proprio il caos, cioè che capito il fatto che stanno perdendo, l'idea di fondo è tanto meglio, tanto peggio, seminiamo il caos e vediamo che succede. Che ne pensi? Secondo te questa è una prospettiva, cioè è effettivamente questo il tentativo che stanno mettendo in atto? Guarda, il punto fondamentale è uno. Se non cambia nulla nel conflitto, l'Occidente, come dice giustamente Lutwak, mi scoccia a dargli ragione perché non lo sopporto da anni, proprio, però Lutwak ha ragione in questo. L'Occidente va incontro a una sconfitta tremenda perché ha messo tutto in campo apertamente a servizio della causa ucraina. Perdere oggi significa perdere, perde la Nato, non perde solo l'Ucraina. La credibilità, addirittura l'intimidazione, cioè la capacità di incutere timore nei tuoi avversari viene meno perché subisce una sconfitta dietro l'altra dopo la ritirata penosa dall'Afghanistan, cioè la sconfitta dopo aver fermato la resa di fronte ai talebani, arriva la resa di fronte al nemico storico e qui hai 50 paesi contro uno e quell'uno vince. E vince non con le pale o i calzini bucati o senza le mutande, come dicevano all'inizio, o rubando i chip dalle lavatrici, ma producendo di più e meglio quello che serve al conflitto rispetto alla controparte occidentale, che ammette candidamente di non avere la capacità di produrre nemmeno un milione di proiettili d'artiglieria, quando il tuo nemico, l'ha ammesso l'altro giorno addirittura alla stampa occidentale, ha confermato ciò che stimò in prospettiva nel suo piano di aumento degli approvvigionamenti militari il ministro Shoigu, quando nel 2022, a giugno-luglio, annunciò il programma di potenziamento della produzione dei proiettili d'artiglieria che sarebbe arrivata entro il 2024 fino a superare i 4 milioni andando verso i 5 milioni di proiettili all'anno. Questo a fronte di un occidente che non riesce ancora oggi, dopo due anni di conflitto, a produrre un milione di proiettili tra tutti. Ma sai Stefano, poi la questione è questa, che quando era iniziato, io me lo ricordo, che due o tre, all'inizio del conflitto, una delle cose che tutte le persone di buonsenso dicevano venendo poi tacciati di essere putiniani, era guardate che non è che tu converti l'industria di un continente, di uno Stato, a diventare un'industria idonea a sostenere un conflitto bellico di lungo periodo, così lo fai dall'oggi al domani, perché tutti quanti dicevano ma sì, ma che ci vorrà mai, no, io me lo ricordo, che ci vorrà mai a fare proiettili, no, cioè converti le fabbriche, a parte il fatto che noi abbiamo un mercato interno di cose che bisogna sostenere, non è che improvvisamente noi sospendiamo, anche poi con il dato alla nostra situazione economica, ma tolto quello, ammesso in un concesso che fosse così facile, ma il che ci vorrà mai era veramente visibile. Oggi possiamo dire, anche questa è la dimostrazione che quell'armiamoci e partite fu una follia totale vero? Sì, ma ti faccio un esempio classico, noi ancora oggi abbiamo le catene di montaggio del modello Ford, no, nelle industrie di produzione metalmeccanica, tipo ad esempio l'industria automotive e via dicendo, cioè una catena che man mano che il veicolo procede viene montato, assemblato, passa attraverso varie fasi e c'erano, noi ce le ricordiamo, tutti gli operai, che montavano i pezzi e via dicendo. Oggi che ci fosse un trattore o che ci fosse un autoblindo poco cambiava, sarebbero andati dietro a fare lo stesso tipo di lavoro, gli operai. Il problema è che oggi di operai ce ne sono più pochi. Le catene di montaggio oggi sono automatizzate in gran parte e questo significa che sono finalizzate alle dimensioni progettate a seconda delle dimensioni di ciò che devono andare a costruire, che hanno dei limiti di dimensioni, perché tutto è stato calcolato e ottimizzato per le dimensioni di un veicolo. Non di certo per pensare di convertire poi questo al passaggio di carri armati o di autoblindo nella catena di montaggio, perché questo avrebbe comportato costi abnormi nella progettazione, nella realizzazione e quindi li avrebbe resi antieconomici. Siccome ora le industrie che si vuole convertire sarebbero queste, la conversione significa che deve essere tutto ricostruito, non c'è il personale per poi seguire la costruzione a mano di fatto di carri armati, autoblindo o altro, perché non c'è personale specializzato per farlo e quindi la riconversione è impossibile. Si può puntare a una progettazione, una costruzione ex novo di stabilimenti. Questo comporterà costi enormi per gli stati, che poi andranno continuamente sostenuti negli anni per sostenere la produzione, ma da qui a un anno non produrrai niente in più. Niente, perché dovrai oltre a costruire e assemblare gli stabilimenti nuovi, formare il personale che oggi non c'è. E per formarlo minimo ci vorrà un anno, quindi da qui a un anno non produrremo nulla. Sentire dei politici che parlano anche, come Macron, di uno scontro diretto con la Russia nella prospettiva di non poter produrre nulla in più da qui a un anno, mi viene un brivido lungo la schiena perché dico questi, speriamo che non li ascoltino dall'altra parte perché se per caso li prendono sul serio e dicono va bene volete la guerra contro noi e allora facciamola perché a quel punto saremmo quasi spacciati del tutto. Ecco. Guarda, mi apri all'ultima domanda con questa riflessione perché Simplicius conclude il suo articolo, vedi, concludiamo da dove abbiamo iniziato, facendo proprio un conteggio delle testate nucleari francesi perché dicevano la, la Francia dice no, non siamo in grado di fare guerra al mondo ma siamo sicuramente in grado. Loro dicono 600, poi lui in realtà fa un conto per cui in realtà dice bah forse se gliene funziona al 25% poi effettivamente è tanto e alla fine dice la Russia potrebbe abbondantemente smantellarli prima che facciano danno con i sistemi di difesa che ha. Ora la domanda che ti faccio è ma secondo te Macron ci credeva veramente nel momento in cui diceva questa cosa o era tutta una cosa in prospettiva elettorale? Cioè appunto sappiamo che lui ha dato nei sondaggi molto male, un indice di gradimento bassissimo, la Le Pen è fatta esaguita. Per fortuna, è purtroppo. Però la domanda che ti faccio è questa. Per fortuna da un lato e purtroppo dall'altro nel senso che la Le Pen ha già fatto il salto della quaglia. L'ha fatto per questo motivo qui secondo te? Cioè in questa prospettiva? Il ruolo della Francia come potenza regionale europea, grazie alla sua force de frappe, è un concetto che è molto caro principalmente ai francesi che dai tempi di De Gaulle sognano un ruolo comunque da potenza mondiale proprio grazie alla force de frappe. Qualche mese fa, se ti ricordi, la Francia provò il lancio di un vettore, il CBM, dalle Alpi francesi verso l'oceano Pacifico, se non sbaglio lo lanciò o nell'Atlantico. Comunque il lancio riuscì bene. Quello per dire che loro hanno la possibilità di colpire degli obiettivi in termini intercontinentali. La stessa cosa ha cercato di fare poco tempo fa la Gran Bretagna con il risultato che a momenti perdeva anche il sottomarino nucleare strategico quindi che dovrebbe lanciare gli ordini nucleari perché il missile che trident se non sbaglio trident che lanciò fece cilecca, di fatto alcuni motori di spinta non entrarono in funzione e il missile si mise a roteare su se stesso cadendo a poche decine di metri dal sottomarino e rischiando di uccidere non solo tutti i membri dell'equipaggio ma di causare un disastro anche ambientale senza precedenti. Questo è stato la prova del sistema di un lancio da parte dei britannici. Ora io non so che tipo di controlli abbiano fatto i britannici prima di scegliere il missile da lanciare e non so che cosa abbiano controllato i francesi prima di lanciare il loro ma sicuramente evidentemente hanno controllato meglio i francesi. Il problema è quanti di questi missili hanno efficienti e soprattutto se vogliono arrivare fino in fondo. Il capo di stato maggiore dell'armée de terre Pierre Schill poco tempo fa ci ha dato i numeri del possibile corpo di spedizione francese in Ucraina 20.000 soldati dispiegabili in 30 giorni come se nel frattempo non iniziasse il conteggio a scalare del numero dei soldati presenti sul territorio perché lui ha detto noi contiamo per difenderci da un lato sulla force de frappe cioè sulla minaccia nucleare francese in caso di attacco e dall'altro sull'articolo 5 della nato a prescindere dal fatto che non sarebbe applicabile eh con l'ingresso del da parte della Francia in un territorio di conflitto in conflitto ma poniamo il caso che i la nato scrolli le spalle e dica ma sì e su questo tra lo stesso Trump su questo è stato chiarissimo sì ma non dipende solo da Trump perché non solo prima prima di novembre per questo c'è stata questa accelerazione nella firma degli accordi di cooperazione di difesa mutua da parte dei paesi europei tra cui anche il nostro a meglio ha firmato il presidente del consiglio poi spero che voglia renderne conto lei in persone non chiedere a noi di farlo nel senso che si armi e parta e che prevede la mutua difesa tra l'Italia e l'Ucraina no quindi in caso di attacco in Italia l'Ucraina verrebbe difenderci e noi andremo a difendere loro in caso di nuovo nuova invasione. Ecco il problema il problema che si pone qua è che alcuni paesi potrebbero effettivamente all'interno della nato dove è necessaria l'unanimità chiamarsi fuori e dire no signori noi non siamo d'accordo con l'applicazione dell'articolo 5 e in quel caso l'articolo 5 non viene applicato e quindi i paesi partirebbero su base volontaria e da lì esce fuori il discorso degli accordi firmati ma quindi c'è un meccanismo di pensiero che ha valutato questo tipo di opzioni mi domando e quindi si è arrivati al decidere di firmare questi accordi per via del fatto che si vuole causare una possibile applicazione di questo per un meccanismo contorto che non comprendo bene se non valutando che nelle parole di Pierre Schill l'ipotesi di pensare e ritenere che la Russia non attaccherebbe direttamente le forze europee che si schierassero sul territorio ucraino per timore di un'estensione del conflitto peccato che abbiano già detto che in questa eventualità diverrebbero un bersario prioritario in quanto sarebbero belligeranti e io temo anche che per dare copertura a queste truppe le forze presenti dovrebbero utilizzare aeroporti posti al di fuori dell'Ucraina rendendo eleggibili come bersagli anche i territori dei paesi da dove partono questi attacchi e ci troveremmo di fronte a un escalation che nel giro di poco ci potrebbe portare sull'orlo di un conflitto diretto nucleare questo perché perché per le ragioni dette prima l'occidente non avrebbe a lungo risorse sufficienti a mantenere in stato di combattimento le unità su un fronte tanto ampio oltretutto rischieremmo di avere un'estensione palese delle forniture militari e se non anche di volontari come accade nella guerra di Corea dalla Cina dalla Corea dall'Iran e vi dicendo che vadano tutti a dar manforte alla Russia e oltretutto il CSTO potrebbe essere attivato a sua volta e quindi vedere molti paesi della ex unione sovietica mandare contingenti militari a dar supporto al loro alleato cioè la Russia e questo conflitto non vedrebbe molto in vantaggio i nostri eserciti per numero per quantità di mezzi a disposizione e per capacità di integrare la produzione di questi mezzi distrutti se abbiamo una Russia che da sola produce cinque volte tanto le munizioni d'artiglieria e noi siamo capaci di produrre noi inteso come tutta la Nato più altri paesi ancora se possono produrre più carri armati di quelli che possiamo produrre all'interno della Nato perché ricordo che la Rheinmetall ha una capacità produttiva attuale di quattro carri armati al mese quattro ed è uno dei più grossi stabilimenti in Europa relativamente ai sistemi di armamenti pesanti può andare a ciclo continuo arriviamo a 12 al mese su tre turni 12 al mese mi sembra una buona prospettiva mettiamo 15 to quanti sono all'anno 180 la Russia solo di t 90 ne produce dai 1000 ai 1200 a stima sta avviando la produzione nuovamente in serie dei t 80 attiva riattivando la catena di montaggio sovietica che era stata dismessa produrranno quanti probabilmente altre tanti carri armati ne ha ancora circa 10.000 da convertire e aggiornare siamo freschi per quanto riguarda poi c'è da valutare una cosa che se la Russia da sola ha queste capacità produttive la Cina a che cifre potrebbe arrivare e su questo scenario come dire con questa bella domanda io chiuderei qui perché è quanto mai significativa questa domanda la Cina dove potrebbe arrivare perché poi questo è il vero è probabilmente il vero i droni i droni per dire che stanno impazzando su che sono stati il vero Deus ex machina dell'attuale situazione sui fronti la vera la vera arma Wunderwaffe che ha cambiato veramente la metodologia di prosecuzione del conflitto è il drone FPV e il drone automatico diciamo con guida di intelligenza artificiale come stiamo vedendo sui lancet e altri e altri strumenti creano uno scenario da incubo per i soggetti umani coinvolti nel conflitto sul campo da incubo veramente qualcosa di tremendo e quasi tutta la componentistica di questi prodotti arriva dall'est Europa c'è dall'est Asia dall'est Asia dall'est Asia dall'est l'est l'oriente se la Cina dovesse coinvolgere anche Taiwan nel conflitto perché oramai siamo agli sgoccioli anche lì perché gli Stati Uniti continuano a fornire sistemi d'arma a una provincia ribelle della Cina è come se la Germania avesse fornito le armi al Veneto per la secessione dall'Italia certo ecco voi immaginate che cos'è e a un certo punto anche l'Italia come le formiche nel loro piccolo si incazzano anche l'Italia si sarebbe a un certo punto stufata di questo la Cina sta facendo la stessa cosa si sta stancando e una formica non è e non è una formica non è una formica soprattutto dal punto di vista della capacità produttiva di tecnologia di metalmeccanica di qualunque cosa si possa produrre la Cina è un colosso perché non fa PIL con cause di avvocati con assicurazioni o altro solo produzione esatto e su questo io ringrazio Stefano e concordo insomma chi segue Ottoline e chi segue Stefano Orsi sul suo canale sa benissimo che siamo perfettamente d'accordo su questa visione cioè il vero nodo che sta venendo al pettine poi è la finanziarizzazione e la terziarizzazione dell'economia statunitense europea occidentale per cui se tu per decenni ti arricchisci a debito sulla carta straccia e appunto sulle assicurazioni le scommesse e le scommesse sulle scommesse in borsa chiaramente prima o poi si arriva alla resa dei conti io quindi ringrazio Stefano come sempre insomma per gli sguardi che ci dà sul mondo sul conflitto ringrazio tutti quanti gli Ottoliner a cui ricordo di iscriversi al canale e ricordo anche di seguirci sul canale in inglese su tutti gli altri social perché Ottolina TV è la non TV del 99% e sopravvive anche grazie a voi ciao e alla prossima Ciao